Presentata e sottoscritta la carta di Pescassero di oggi a Palazzo dell'emiciclo, vale a dire l'insieme delle linee guida per la consapevolezza ambientale nella professione giornalistica, lo si è fatto all'interno dell'evento di chiusura del centenario della Fondazione del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise del Premio Polidoro, una carta approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti su proposta degli ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise. Fondamentale l'adesione alle norme ambientali, ai principi etici e professionali da parte dei giornalisti, che unita alla conoscenza e alla corretta informazione diventa fondamentale per una società la cui tutela degli ecosistemi sia un valore riconosciuto. Tanti i temi, ma le parole principali saranno accuratezza, equilibrio, proattività e la responsabilità. È una carta che impegna tutti i giornalisti italiani a rispettare alcune regole fondamentali nel momento in cui si occupano di ambiente. Noi abbiamo tutta una serie di carte che si occupano di tutto, di più, dalla cronaca giudiziaria, alla tutela dei minori, alla tutela delle persone oggetto di violenza che sono state vittime di violenza, lo sport, la cultura, ma non c'era niente che potesse riguardare in qualche modo l'ambiente. Per cui questa lacuna abbiamo inteso colmarla con la collaborazione degli ordini del Molise e del Lazio in occasione del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo. A portare i saluti del Consiglio regionale che ha ospitato la firma della carta, ma non solo, perché la Regione ha finanziato anche il centenario del Parco, il Vicepresidente Roberto Sant'Angelo. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha il merito di aver fatto una legge che valorizzava il centenario del Parco Nazionale, che sostanzialmente nel corso degli incontri è nata l'esigenza di sviluppare un documento che desse le linee guida al mondo giornalistico per approcciarsi alle tematiche ambientali. E da qui è nata la carta di Pescasserole, la nostra cittadina porterà questo nome emblematico abbinato all'ambiente, proprio Pescasserole che è la sede del Parco Nazionale d'Abruzzo. Che cosa significa? Da domani i giornalisti avranno nel proprio ordine deontologico un addendum che darà tutte le linee guida per approcciarsi in modo giusto e in modo intelligente alle tematiche. Grazie a tutti.